Io mi chiedo, ma cosa succede ai militanti del PD? Cosa gli succede quando diventano segretari? Perché si trasformano? Renzi era la speranza del paese, poi è stato eletto e dopo un po' si è capito che il paese era l'Arabia Saudita. Enrico Letta era il professore di Parigi, quello intelligente, che doveva tornare in Italia per convincere il proletariato. Poi è arrivato il proletariato e si è convinto in massa a votare Meloni. E adesso la Schlein, che è partita con le sardine ed è già finita col caviale, porca puttana. La segreteria del PD fa male. Lo dice, smetto quando voglio, poi si ritrova da anziano a presentare i romanzi da Fabio Fazio come Veltroni.